e ciao a tutti benvenuti su the ship premetto che non conosco assolutamente questo gioco prima volta che ci gioco ho capito a quanto pare che si tratta di un'avventura nella quale noi stiamo su una nave fino a qua non ci vuole molto per capirlo siamo a imbarcare su questa nave e dobbiamo a quanto pare uccidere altra gente non ho molto capito io ora vediamolo insieme prima di tutto però abbasso fottutamente l'audio che devo poter sentire ok dunque c'è sta arfonso corpi parola in bocca bella a tutti vabbè sì senza era quello bella a tutti bella a te a te a te pure a te sono mister forno e me lo hai ascoltato e mo ora che facciamo eh so cazzi so there will be no rescue no help arriving there's just you and me and the little game will go hai perso a game which will decide how you get off this ship ok dunque quello che ho detto io è giusto lo scopo è praticamente uccidere la preda se no venite uccidere voi tu vabbè lo vediamo si ok questo è la più figa cioè con quella che la fai bellissima guarda ok ma dunque ti dai il nome di una persona devi ucciderla e fino a qua vabbè eeeh vabbè fino a qua potete aver capitato il principio e come cazzo cazzo no un un cazzo un e Michelangelo Abitual Simpanico lui Vabbè Allora Ora mi chiedo È un single player Cioè Tutto il gioco si basa Sull'uccidere gente Tipo Hitman Cioè Contratti Uccidi tizio Tici Sì Probabilmente è questo Allora Ehm What Guarda roba Leggi informazioni su vacanze Non ho niente a fare Ok Me lo porta presso Perché no Cos'è Compaio di squadra Sala da parametro Ah mi indica dove sono i posti Suppongo Ok Ehm Qui Sonnifero Ombrello Berretto Inventario Ehm Ah Ok Allora io metto questo Perché voglio essere sexy No Non posso essere sexy Voglio essere sexy Vabbè Gli occhiali Gli occhiali No vabbè Sei figo con gli occhiali Eh Direi che non posso togliere Questa roba Eh Mano L'ombre Ah Ok Vendo a ombrellate C'è il tempo Della corsa Ok Vabbè Direi che posso andare Tab cos'era Trovo un'arma Uccido tua preta Prova col fattore Nell'alberto Oh merda Figata Ehm Tasto azione Fammi dire che si è rotto Cioè tu mi stai dicendo Che mi si è rotto L'ombrello Vabbè Ehm Scusi Permess Ciao zi Senti un po' Ciao bella Ascol Mi stai ascoltando Ehi Senti Parliamone Scusa Ehm Parla Scusa Ehm Esamina Questo è un passaggero Con cui può parlare Parla cazzo No eh Ehm Apriamola No la chiave È chiusa I bagni I bagni non sono chiusi Sennò che io sappia Ah Proprio Così Cioè Dovevo tutto Inventario Ok Vabbè Ce l'ha Robetta Cioè Cioè ma è È davvero Satico Questo gioco Cioè Che item Usi Per uscire Che fighi Cioè Sì Voglio anch'io Così Ma che è Sul serio No Sul serio Vabbè Andiamo in quello delle donne Giustamente I dialoghi I dialoghi più belli Che io abbia mai visto In un videogame Giuro Queste cosa sono Dolce Ancora Nudo Lui dal tornello Dolce Se le fa nude A tutti E cos'è quella risata Da maniaco Allora Se vado nell'acqua Lo so che nuotare Ok Vabbè Basta Mettersi a sedere Alzati Ok Di qua Non so perché Ma già immagino Che qui Si possa regolare La temperatura E fare morire Qualcuno qua dentro Il che sarebbe Alquanto figo Mi pare di capire Che si debba Anche dormire Cioè Tutto un sistema Tipo The Sims Vediamo Se io vado qui Sì Ok Allora Questa è chiuda No Questa non è chiuda Ciao bello Possiamo parlare Vogliamo Scusa Ti le Pentola Mazzata Occhiali scuri Isola del tesoro Ok L'isola del tesoro Un libro che Ho letto E All'inizio Mi sembrava Palloso Mi sembrava Una cosa Molto Noiosa Invece Alla fine Mi è piaciuto Un sacco Allora Vediamo Usiamo Il martello Poi Inventario Come si apre Ok I Oggetti per Ah posso droppare Gli oggetti Allora questo Quanto pare Si può vendere Questi sono libri Che non capisco A cosa Possano Servire Per gettarlo Posizione Della Dovreda Ah ma Cazzo Sta qua Andiamo Cioè Qui Oddio Un arsenale La mano È la più bella Di tu Cos'è Questa Figa No Cioè Aspetta Voglio farlo Che Figata La mia parata Sta qui Tipo Vede I No Non sta Qui Però Qui C'è Un ossicino C'è Una Fog Cazzo Non so Che cade Il mano Oddio Cazzo Uncini sportivi No Il turbante No 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 Io voglio Il turbante Allora Tu Via Ho detto Via Dov'è Il turbante Cazzo Uncini sportivi Che sexy Voglio Questo E voglio Anche Il turbante Solo da me Voglio Voglio Il turbante Non mi cagare Il cazzo Pantano Mi cagare Tutto Aperto Butta Ok Ora Turbante Voglio Mettermi Il turbante Voglio Voglio il turbante Maledetto Perché non posso Ah forse qui Butta gli occhiali No eh Cappello Neanche Vabbè Sono il più figo io Così Alla fine Non importa Dato che non li posso mettere Li butto Gli occhiali Vabbè Gli occhiali Perché sì Non so cosa servono i libri Nel dubbio li prendo Però Allora Dov'è il mio obiettivo Il mio obiettivo è Ah Sono i soldi che percepisco Per l'uccisione Ok Il mio obiettivo Ponte di Corridoio Terza Ah è questa Ah Ok Ok Allora Vaffanculo Cioè Qual è l'arma Cioè Che mi dà Più soldi Settecento Settecento Ah ma vaffanculo Faccio così Mazza da baseball Non ne ho una Mannaglia Eccola Che posizione sexy Bene Andiamo Come si leva l'arma Ah ok Dov'è Dov'è cazzo Sei andato Oddio Dov'è andato Dov'è andato No sul serio Dov'è sei andato Qui forse Ma Dov'è Diavolo Dove sto andando Ah ma vaffanculo Apri Suppongo sia questa Sì Ok Grazie Grazie Questa 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 È un ticc Un ticc Un ticc Se sai cosa Cioè Se sai cosa Cioè Non piace Non c'è Non c'è Niente 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 Ora Posso Uffanculo Per un prezzo Ma sarà mignota? Cia pomeo lo sacco E sei in motel Ok Beh ci sto Mi sembra giusto come cosa Cioè mi sembra Mi sembra Cioè già che mi sembra non è male Allora dove devo andare? Il mio obiettivo Oddio dall'altra parte della Paragol fatti trovar la seringa della s... Ok andiamo di qua Oddio che figo Oddio mi ricorda fallout, mi ricorda fallout purtroppo ok come al solito i dialoghi tipo epici non capisco per cosa sta l'occhio non ho idea il telefono si può usare no ovviamente qui posso andare no non posso e qui non posso ok ciao sei sul canale camera locale di rascio detenuti ufficio serviglianza via il bagno delle donne oh si può andare si faccio il pervertito vai no qualcuno ma si può non ho parole questo è il gioco più figo che io abbia mai visto cioè the sims è the sims versione versione sione ah ma il bello è che no è epico sto gioco cioè io dovrò pagare per mangiare suppongo dovrò gestirmi i soldi oh mio dio best game ever best game ever allora dovrò imparare a riconoscere questa barca questa nave è pollola di froci ah oddio pure tipo guardare la televisione oddio questo gioco è fatto per me cazzo è fatto per me scusa possiamo discutere oddio che figo la voglio quella benda questa è la bussola wow allora ok sono vicino al mio obiettivo relativamente dov'è di qua sick bay ciao ma ci stanno i sottotitoli allora facciamo che facciamo che ehi ciao senti c'è una posso parlare senti scusa abbiamo una come posso scusa posso parlare vaffanculo lui così prende legge proprio di giù è the sims c'è come cos'è sta merda perchè qui vabbè questa ah ok sacca per colostomia sul serio siringa no io non ho parole degli oggetti che ci sono ah ma questi è perchè li uso ah ok 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 cioè io faccio così e lo leggo ok però se io adesso guardo nell'inventario non ce l'ho più sono a uso singolo allora questo me lo porto questo tu mi fai dormire va bene qua non ce l'ho una scienza ok vabbè tutte le armi uno di questi li leggo perchè non lo so vabbè ci pensiamo dopo a ste cose oddio quanto è brutto amico se lo dici tu mi fido oh qui la roba diventa figa allora butto tutta sta merda perchè sul serio cioè se io posso uccidere con quella roba cioè ma stiamo scherzando stai pensando cioè io subito subito dammi questa la voglio pure questo lo voglio ok comunque non penso che sia qui il mio b oh cazzo ha fame ha fame cazzo tanta fame scusa golberg scusimi ma cazzo perchè tutti parlano così catetere oddio non ho parole sto gioco è la figazzine più assurda ok qui dentro penso ci sia qualcosa vero? si pillola da felicità ne ho già perciò basta dove cazzo stanno ste pastiche? eh c'ero qui ah no questa? si trova siringa droga il tuo sosia parla col fattore nel albergo ok il mio sosia posizione attuale museo ok ah è quello là con la benda ok quello di prima il il bendone eh no no ma che? possesso di arma letale possesso di arma contubera madonna oh mio dio questo gioco trova la tua preda wow che cioè best suggerimento ever eh qui kamasutra leggi di antiche tecniche erotico guarda solo le immagini buona la seconda kamasutra l'alice del paese delle meraviglie ok penso che decisamente tra i due sia meglio il kamasutra cioè voglio dire orello stai dentro una cella tanto vuole leggere qualcosa di interessante no la bibbia ok buona me ne va ehi ciao tu beh dato che ci siamo mi faccio anche una doccia oddio questo gioco quanto possa penso che mi piacerà da morire eh mangiare grazie beh ciccio hai fame vedi un po' cosa puoi fare ok poi cosa dovrebbe fare si diverte? ah ok cioè nel senso lui non gioca cioè lui lui what the fuck allora devi pisciare devi cacare allora dato che ci siamo no proviamole queste cose non ho parole non ho parole giuro sto puzzando puzzi vai a lavarti ah 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 puzzi vai a lavarti cioè non ho mai non mi hanno mai detto le cose così cioè così volgarmente puzzi vai a lavarti porca troia puzzo davvero eh dove è la camera mia? sì ok ma le docce non sono qui ah ok è qua vai vai corri allora dai hai detto perfetto bene ma a questo punto direi di dormire anche bene andiamo un po' ah cash oddio io posso anche ritirare così dove è il mio ciccino là i i ce l'ho davanti no ah ok si è spostato magari riesco a uccidere ah no perché devo andare a recuperare la siringa giusto abbiamo tolto tutte le armi abbiamo tolto tutte le armi avevo lo spadone di crinchiolo no no io non tollero questa cosa quindi eh ok ora non c'ho più nulla senti ciccio magari un attimo di prendere ma si aggiorna che figata allora dov'è il il buddy eh sta sempre là per la precisione è lui si è lui è lui ma io come faccio trova la siringa trova il tuo sosia allora io dovrei facciamo così andiamo qui eh è ok chiudi ok siringa eh qual è eh ok allora penso che se vado in giro così non va bene allora bevo in qualche modo dov'è ok ah ma penso che siamo ah ci stanno le telecamere porca vacca sto gioco è tipo troppo potente quella mi sta guardando ok questo è il momento buono 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 no vaffanculo vaffanculo no no sì ok trova la siringa no ma io devo ricominciare ogni volta oh mio oddio leggiamo il kamasutra dov'è voglio il kamasutra voglio il giudizio no voglio il kamasutra dov'è no mi sono portato il kamasutra mi hanno fottuto il kamasutra non ci credo dov'è voglio la mia copia del kamasutra no vai leggi mi piace allora doccia sonno merda che cosa vuoi ok no fammi mangiare prima fammi mangiare vaffanculo allora porca troia ora mi incazzo tu stronzo prima o poi morirai cerca l'infermeria tra la pozione super grazie al cazzo lo so cioè vabbè devo ammettere che comunque l'idea non è affatto male cioè il concept del gioco non è affatto male certo suppongo che questo gioco sia abbastanza vecchiotto non so perché però ha il suo perché cioè diciamo che tutte le 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 merde varie ok vai non andare dai 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 oh grazie ora no ah vabbè di qua vediamo dov'è Jimmy il fattorino sì Jimmy il fattorino sta dentro la stanza quella là Jimmy hey Jimmy ciao Jimmy grazie ok ok Ha anche una banca per mantenere il giro! E qui ha un paio di nomi di ragazzi che stanno cercando dei muscoli Vieni a vedere Bruno prima e ti dici a lui che ho sentito qui E' io, Jimmy E' io e io qui Buona luck buddy Dunque Bruno il barista Bar Vesuvius Aspetta fammi fare i cazzi Ma ci sta tipo un modo per vedere le statistiche del personaggio? Premi tasta a cazzo Non questo Tassi a cazzo Oh si eccolo Ok relativamente non ha voglia di fare un cazzo Bene andiamo Oh mio dio Dov'ai oh? Perchè quello è diventato calvo? Ma che? Posso? Scusa? Perchè l'hai fatto? Ah questa è l'assassina che doveva uccidermi Ok Ehm Dunque Dove devo andare? Dove devo andare? Ah ok Come salgo? Ascensori Ah beh giusti salgo qua gli ascensori Complimenti Ehm Scusa Beh? What the f... Beh? Ah ok ho capito Suppongo di aver capito No? Non ho capito Ehm Perchè non funziona? Vabbè Le scale Tutta la vita Non c'è niente? Tavoletta di cioccolato Uh buono perfetto Avevo un po' di fame Perfetto Perfetto Questo Questo Oh mio Dio Li voglio tutti Ah che figata Cioè no parliamone Che figata Ok Via Ehm No Si Dormiamo Poi Qui La peggio roba da mangiare Prendiamo tutto Ok penso che così possiamo Ah questo sta a morire fame Perciò No Ha sede Ha tanta sede Però deve tanto pisciare anche Allora Incesso No Ok basta No basta Ciao Ma se faccia Ehm Biblioteca Mi serve un cesso Ah a proposito Sto al piano giusto Sì 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 Sto al piano giusto Ok perfetto Dovrei andare di qua E devo tanto pisciare Ma non so dove pisciare Ehm Ah ma Sono idiota Vediamo Cessi Quali sono questi? Mamma mia Sto gioco è tipo Figata Allora Dunque devo andare di qua Vero? Ma c'è un modo per aprire la mappa più velocemente? No eh Eccoli Sì La mia salvezza Vai vai piscia Ok Madonna Allora Ora Si tratta di non incastrarsi Vediamo Devo andare Devo andare Nella stanza qua dietro Mi stai dicendo posso raccoglierla Vero? Vabbè evitiamo Allora la mia preda E' qui Ed è il bar Ah non è la preda giusto È il barista Parliamo Buongior Buongior Com'on s'avà Buongior Com'on s'avà Si impari con l'occhiolino Bishbosh Bishbosh Tradutto zacchete Bishbosh 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 Tradutto zacchete Questo gioco mi sta particolarmente Eh Particolarmente Piacendo Ma io vorrei Salvare Eh Il barista Ah ok ok Si salva da solo Buonissimo Bene Per questo episodio è tutto Spero che Questo gioco possa piacervi Cioè Svilupperemo Diciamo Le dinamiche del gioco Più avanti Penso che E' soltanto l'inizio questo E per ora Vi dico Ciao a tutti